Parliamo con Maghette Fall, il grande protagonista della giornata di oggi, ma non solo, direi, quanti sono? 14 quest'anno? Sono 13 in campionato più 2 in Coppa e diciamo che sono contento per il gol, ma sono contento soprattutto per la prestazione della squadra che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Avete basato la vittoria di oggi sul contropiede, devo dire che i tuoi due gol, anche il rigore causato e l'ultimo gol andavi a velocità doppia rispetto ai difensori. Sì, abbiamo contento una squadra che attaccava fortissimo, lasciava tanto spazio e abbiamo sfruttato i spazi che ci hanno dato e abbiamo trovato i due gol così guadagnando anche il rigore. Una vittoria che ha ancora una volta dimostrato di essere una squadra solida, subisce poco e colpisce quando deve una squadra cinica che serve. Sì, come ho detto prima, siamo una squadra forte, adesso bisogna dimostrare ancora di che passo siamo fatti e bisogna continuare così e andare avanti. Il vantaggio però è rimasto costante anche oggi, lo mantenete, rimanete i primi favori? Sì, infatti noi guardiamo a noi, noi affrontiamo ogni partita nel modo giusto, senza guardare chi ci sta dietro e noi bisogna andare sempre a cercare di portare i punti a casa. Riesci a arrivare a 20 quest'anno? Speriamo, dai!